In mezzo a piazza stavo a comizia, come gridava forte il candidato, la radia rimbombava e gridava schizzo e per parlare stava tutto sull'alto. Amici miei, la libertà è malata, lungi da noi la prevaricazione abbiamo noi la cura appropriata per riportarvi a fronte a buoni giorni. Il mio partito vi libererà dai fascismi, dai comunismi, dai realismi. Un becce s'abbustiare, tenete niente, il contrario è il maquismi.